Alla fine, come si vociferava, la regione toscana si era detta favorevole all'accessione delle fiere Orafia IEG, avallando dunque la strada delineata dal presidente Boldi. L'assemblea dei soci di Arezzo Fieri ha da una parte rinviato al 16 febbraio proprio la sfiducia di Boldi, dall'altra ha spostato in avanti anche l'accessione delle fiere. Per la regione era presente l'assessore regionale Ciuoffo, mentre la maggioranza degli altri soci, comune di Arezzo, provincia e camera di commercio, per questioni tecniche, hanno votato per differire l'accessione, visto che siamo di fronte a un CDA mutilato dopo le dimissioni delle scorse settimane. Boldi per il momento dunque rimane al suo posto. Il primo commento ad arrivare è quello della presidente della provincia di Arezzo, Silvia Chiassai. Mi chiedo, dice perché oggi si sia cercato in ogni modo di forzare la mano verso un voto sulla proposta che fortunatamente, con grande senso di responsabilità, la maggioranza, sia pubblica che privata, si è espressa per un rinvio della discussione su questo punto. Mi chiedo, continua la Chiassai, anche il motivo per il quale invece la regione si sia opposta. Forse conosceva la proposta, a differenza degli altri soci pubblici, visto che era l'unico firmatario pubblico del protocollo di intesa secretato a tutti gli altri soggetti. Credo che l'unica strada da percorrere sia che tutti i soci e la stessa società IEG tornino a sedersi ad un tavolo, avendo potuto contare su di un lasso di tempo adeguato, per un'analisi nel dettaglio della proposta.